Grazie a Kutuli da Peshawah per il Corriere Online. A un mese dall'attacco angloamericano sull'Afghanistan, Peshawah, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia per la guerra, così come era stata un po' negli anni 80 durante l'Aziat contro i sovietici. Era una donna innanzitutto molto decisa e determinata, sapeva esattamente quello che voleva. Sono entrato in questo albergo che era il continental di Peshawah e lei stava lì. Mi ricordo benissimo come era vestito, mi ricordo benissimo. Stavo fumando una sigaretta, aveva uno di questi vestiti delle donne pakistane, un salverga di Peshawah. Mi piacevano in maniera particolare le storie un po' estreme, ai margini del mondo. Questo pensivo fisso, questo rimosso, questa cosa che si rivolta continuamente dentro. Occorre assolutamente rintracciare gli autisti e gli interpreti, perché è fin troppo evidente che c'è qualcosa di strano in questa vicenda. Davanti c'è la macchina di Maria Grazia, dietro c'è la macchina della Reutte, è una strada stretta, quindi non c'è modo di fare inversioni, non c'è modo di fuggire. Le macchine vengono fermate, gli spari avvengono praticamente subito. Avrebbe dovuto prendere una scorta, avrebbe dovuto aspettare altri giorni. Adesso è facile dirlo, ma in quel momento se fai giornalista e sei sulla notizia più importante dell'anno e devi arrivare nel posto più importante dell'anno, ci vai. Gli esseri possono fare in due modi, gli esseri come la grande politica estera, i campi di stato, i governi, eccetera, eccetera, oppure andare dove la terra brucia. Maria Grazia era nata per andare a raccontare dove la terra brucia e lì è rimasta. E lei era proprio ancora vestita da maschietto ed era sulle mie ginocchia. Un certo punto alzò gli occhi e cominciò ad alzare anche il dedino a fare uuuh, uuuh, uuuh. E fu tutta una chiacchierata con la luna. Grazie. 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 Grazie.